Un giorno, giuro, la smetterò di comprare capolate. Chiaramente quel giorno non è oggi. Correte in edicola se non lo avete ancora fatto, perché sulla scia del trend portacchiavi sulle borse sono usciti questi adorabili portacchiavi, tutti quanti a tema Hello Kitty. Sono della Sbavam. E devo dire che al momento sono una bella collezione, perché potete trovare tutti questi personaggi, sempre Hello Kitty, travestita d'animaletto. E una cosa che io adoro è che non sono blind bag, ma potete tranquillamente scegliere voi le Hello Kitty che preferite. Devo dire che comunque sono tutte troppo carine, il koala, l'unicorno, la coccinella, la giraffa, la stavo per prendere però ho preso il tigrotto. Veramente tutte, tutte super carine. Allora io ne ho prese tre, però penso che ne terrò solo due, una la metterò su Vintra, adesso vediamo. Comunque apriamo quella che sono sicura di tenere ed è il pandino, quindi andiamo a spacchettarle insieme così, la vediamo. Adoro. Ok. Sono troppo belline, sono fatte veramente troppo bene. Tra l'altro hanno sia il moschettone, sia i portachiavi, quindi questa è troppo carina. Guardatela, è fatta troppo bene, vi giuro. Io non so se percepite la carineria di queste Hello Kitty, ma vi giuro è troppo troppo carina. E lei l'ho pensata per essere attaccata alla mia borsa Fiorucci. Questo è il risultato davvero troppo troppo bellina, secondo me, adoro. Vi prego, la carineria. Grazie.